Oggi andiamo oltreoceano, parliamo della nuova DC Comics targata Panini. Iniziamo! Amici, bentornati su Recenso, alla videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm. Nella puntata di oggi parleremo per la prima volta di un fumetto americano. In realtà non è propriamente vero perché in passato già abbiamo fatto qualche escursus nello stile americano, soprattutto attraverso i fumetti di Star Wars. Ne abbiamo visti in passato, ne continueremo a vedere in futuro perché piano piano li sto recuperando. Sia ovviamente lato Legend, che abbiamo quasi finito, che poi quello Canon. In realtà, forse voi non lo vedete, ma c'è anche la mia collezione di Doctor Strange in cartonato, ma sto aspettando che esca l'ultimo per poter leggere tutto e parlarne con voi. Per cui in realtà quella di oggi è la prima volta che mi discosto dalla mia comfort zone nello stile americano e parliamo quindi della DC, che in Italia trova il suo nono editore nella Panini Comics. Metto quindi un po' le mani avanti, non solo perché è la prima volta che leggo della DC, ma poi perché avendo appunto solo la base di Star Wars come stile americano a me conosciuto, non voglio sbilanciarmi troppo inventando qualcosa per compensazione o dicendo cose inesatte, proprio perché è uno stile sia di narrazione che di narrazione per immagini, quindi stile grafico, a me molto lontano. Per cui il mio è un voler creare qui un piccolo spazio nel quale, senza pretendere di essere dei conoscitori di questo genere, ma come semplici lettori e appassionati. Poi se voi siete più bravi di me, sicuramente avete qualche conoscenza in più a me, vi aspetto nei commenti qui sotto per aiutare un po' tutti a entrare in questi nuovi filoni, che per me sono nuovi, per altri no. Ma è anche giusto così. Al passaggio di consegne quindi dalla RV Lion, se non sbaglio, alla Panini, non tutti sono d'accordo, perché sembra che la Panini sia forse un po' monopolizzando quelle che sono i mercati del fumetto, sia lato nipponico che il lato occidentale. In Italia detiene quasi tutto lei, è una bella fetta quella che mantiene, però sinceramente io non trovo che stia sbagliando nel muoversi e nel comportarsi, anche se effettivamente quella che già due anni fa era la polemica sul costo eccessivo degli spillati e il rincaro che c'è stato non solo nella Panini ma anche in tutte le altre case editrici, si fa ancora sentire economicamente e ancora proprio come discussione attorno alla casa editrice. Però passiamo avanti. Stavo dicendo, abbiamo parlato un po' della pubblicità che si è voluta fare la Panini a riguardo. Questa pubblicità è stata sviluppata attraverso, mi sembra, cinque personaggi del mondo della DC e questi personaggi sono stati portati sul nuovo mercato, mettiamola così, attraverso i volumetti alfa, che sono degli spillati che racchiudono un poco la nascita dei personaggi di cui parlano. E poi, in queste settimane, stanno uscendo i primi spillati, i numeri 1 delle storie. Ovviamente, come già detto negli editoriali, che ho trovato molto interessanti, molto nostalgici e romantici, all'interno di questi spillati, ovviamente ci saranno anche delle pubblicazioni a parte, magari non mensili e quindicinali, che serviranno quindi a rinfoltire e a recuperare quello che è il passato di questa grande casa editrice americana. Io ve li presento nell'ordine in cui li ho letti, quindi come al solito non è un ordine di gradimento. Il primo che ho letto è stato proprio il numero alfa di Superman, che qui troviamo in questa copertina specchiata azzurra. L'ho trovato molto interessante questo effetto specchiato, anche se poi alla fine sembra appiattire un po' tutto. In questo numero, essendo appunto un alfa, troviamo quella che è la nascita del personaggio di Superman, spiegata attraverso tre storie. A passo per la prima volta nel 1938 su Action Comics numero 1, le altre storie sono poi del 1972 e del 2005. E sono appunto tre piccole storie che ci presentano appunto la genesi di questo personaggio. Ovviamente più andiamo indietro, più questo personaggio e le sue storie ci possono sembrare infantili, molto scarne, hanno un impianto narrativo veramente semplicistico, ridotto all'osso. Allo stesso modo quindi anche il disegno. Un disegno schematico, molto piatto, quasi statuario, fatto di figure statiche ferme, poche linee, campiture di colori che con il reale poco hanno a che fare, e una impaginazione che poi man mano a lungo andare nel tempo si andrà a perdere. Preferendo quella che ormai conosciamo tutti quanti, che è un'impaginazione senza schemi, molto libera, che sviluppa la visione e il concetto di cinematografia dell'impaginazione del layout delle tavole, e aiuta così la lettura. Poi vediamo più in là se questa cosa funziona o meno. Eppure, nonostante questo, l'evoluzione del personaggio si vede molto chiaramente, viene sviluppata quindi non solo attraverso la sua fisionomia, e il modo con il quale da figure piatte, fisse e rigide viene sviluppata l'armonia delle forme dei personaggi, la possenza e anche quindi tutti i volumi dei muscoli del personaggio, ma anche quindi gli stili di disegno che prendono non solo il tratteggio con il quale inizialmente si voleva creare quella profondità e quelle belle volumetrie, qui ovviamente oltre il tratteggio si inizia a giocare anche con macchie di china, con colorazioni diverse, e lo stesso quindi avviene anche per gli sfondi. Fino ad arrivare a un disegno colorato in digitale, che quindi sembra assottigliare molto le linee per dare quindi appunto più peso al colore. Colore che, proprio perché è digitale, mentre va a perdere la schematicità dell'impaginazione, prende molta importanza con questi bellissimi sfumati e questi bellissimi contrasti. L'unico punto negativo che trovo è il fatto che questo Superman, da personaggio virile, maschile, molto ben impostato, inizia a prendere delle fisionomie particolari che lo rendono mascelloso, quindi solo più mento, con un naso molto piccolo, degli occhi molto piccoli e con una abbondanza di ciglia. Una cosa che non mi piace particolarmente, mentre tutto il resto sembra funzionare alla grande, man mano che si va avanti, quindi si arriva a quello che possiamo definire il Superman moderno, a cui ovviamente siamo un po' più abituati, proprio anche per iconografia, ed è un Superman che quindi è più facile da leggere, più facile da avvicinarsi. Cosa che, ad esempio, nelle storie precedenti non era così semplice, proprio perché il disegno era molto più schematico, molto più semplice. Stessa cosa quindi anche con la storia. L'unica caratteristica positiva di queste nuove impostazioni dei layout è che in questo caso sono ancora molto ben delineate, hanno delle strisce orizzontali molto chiare, nette, e ancora non c'è quella grande sovrapposizione di vignette, quasi sparizione di vignette in questo dinamismo forte e potente, e prepotente, che alle volte fa perdere la cognizione e la lettura, la rapidità e la facilità della lettura. Per cui sono andato avanti e ho letto il primo numero di Superman che non ho preso nella versione Museum, perché non so ancora se vorrò continuare a leggere, e siccome c'era una specie di vincolo, cioè compri i primi tre numeri e hai quindi la versione Museum, io mi sono limitato a questa, che ha semplicemente titoli e quant'altro, e la carta è di minor pregio, però è comunque bella e interessante da poter vedere. Ci sono anche in questo caso due storie, diventa quindi un quindicinale, da 6 euro passa a 5. In questo quindi quindicinale troveremo due storie che fanno parte della Action Comics, rispettivamente 10-12 e 10-13, che quindi raggruppano ogni due uscite americane in uno spillato italiano. In questa storia quindi troviamo un Superman decisamente molto più maturo, molto più evoluto, molto più approfondito, perché sono passati tanti anni dallo sviluppo e dalla nascita del personaggio, e questa volta lo troviamo intento in una ricerca, in una indagine, lontano dal Daily Planet, nel quale altri giornalisti si impegnano a portare avanti le indagini sue e della sua amata Lois Lane. Ed è proprio una di queste giornaliste, la Miss Good, che nel portare avanti alcune interviste si ritrova a confrontarsi e a intervistare una ragazza molto particolare. Questa ragazza si chiama Rose, ma ha una doppia personalità che si chiama Spine. Questa doppia identità all'interno del personaggio sembra essere la chiave di lettura di questa vicenda, di questa storia, che quindi mette sotto i riflettori il personaggio e allo stesso tempo, seguendo le vicende di questo personaggio, si delineano tutti quegli aspetti nascosti nella trama che si muovono dietro le quinte e che quindi ci mostrano il pericolo imminente per il quale Superman si sta muovendo. Trovo la narrazione molto interessante perché passa da un personaggio all'altro, da una vicenda all'altra, non ci fa fossilizzare quindi su un solo personaggio, un solo aspetto, ma compresa anche di sottotrame che riguardano proprio anche Miss Good, ci aiuta a assaporare quella brio, quella frizzantezza e quella novità caratteristiche di un inizio di storia. Ciò che è bello in questo fumetto è ovviamente il disegno. Come ho detto, un disegno molto moderno, molto particolare, che sfrutta al massimo quella che è la comunicazione visiva del cinema, tanto che sviluppa anche una lettura delle immagini e una scansione nei piani delle vignette che aiuta la lettura dell'occhio perché mette a fuoco i personaggi e alcuni dettagli e tutto il resto, quinte e sfondi, sfocano. Ciò che mi ha dato particolarmente fastidio, invece, è questa, scusate, lattuga, quest'insalata che viene messa prepotentemente a cornice delle vignette, vignette che altrimenti sarebbero state di sicuro meno opprimenti, più leggere da leggere, più interessanti, e invece sembra una cozzaia di roba. Al contrario invece ce ne sono alcune di tavole molto interessanti, molto cariche di dettagli, con uno stile molto pittorico che mi è piaciuto veramente tanto poter indagare, soprattutto per questi forti contrasti, alle volte dati da colori netti, altre invece da colori sfumati. Il secondo alfa che ho acquistato è ovviamente Batman. Mi sono limitato quindi solo a Superman e Batman, non solo perché ormai erano gli unici rimasti, ma poi perché sono, penso, quelli che a mio sentimento rappresentano di più il mondo della DC, sono proprio le icone della DC, quindi non è un discorso maschilista, è proprio un sentore mio di quando ero bambino. Per me i fumetti americani, gli eroi americani, erano Batman e Superman. Come abbiamo visto per Superman, Batman viene presentato sempre con questa copertina in azzurro, riflettente. Sinceramente mi aspettavo forse qualcosina in più, soprattutto dalla resa del Batman qui in copertina, ma avrei preferito qualcosa di un po' più accattivante. E anche in questo caso la versione alfa, il numero alfa, ci presenta il personaggio dagli albori fino ovviamente a qualcosa di un po' più recente. La prima volta quindi che vediamo Batman è nel 1937 e ovviamente le cose sono cambiate a lungo andare, direi anche per fortuna, perché la prima storia ci viene presentata come un disegno molto, possiamo dire, io non vorrei inimicarmi nessuno, ma molto immaturo, molto facilotto, sempliciotto, con queste figure molto piatte, schematiche, rigide, impostate. Sembrano quasi a voler imitare e scimmiottare dei fotoromanzi. E il primo fumetto che troviamo, il caso del sindacato dei chimici, è in realtà una storia nella quale Batman sembra più un detective, un investigatore e non quell'eroe, quel vigilante che conosciamo. Ovviamente quello che ha da sempre interessato il lettore e anche gli autori del personaggio è il modo con il quale è nato Batman, quindi la tragedia che il piccolo Wayne ha dovuto subire con l'omicidio dei suoi genitori e il fatidico incontro con il pipistrello che quindi lo ha ispirato, rendendolo quello che poi benissimo conosciamo. Questa ovviamente è una semplificazione perché il personaggio viene sviluppato in maniera via via sempre più approfondita man mano che quindi le storie si vanno a succedere e come ovviamente avviene per la sceneggiatura e la storia questo avviene anche per il disegno. Abbandoniamo finalmente quindi questi disegni schematici rigidi e fissi e andiamo sempre più avanti abbandonando anche i fissi schemi di impaginazione in maniera forse più violenta rispetto a quello che abbiamo visto nel numero alfa di Superman perché appunto qui è ancora più chiara l'intenzione cinematografica di queste tavole che diventano raccontate a pagina piena a volte doppia e sopra a un'immagine di sfondo unica si sviluppano anche delle vignette in più. Assieme a questa caratteristica dell'impaginazione si sviluppa quindi anche il personaggio che così non è più una silhouette scheletrica ma anzi inizia a prendere volume i muscoli iniziano a essere sviluppati tutte le volumetrie e la parte massiccia del corpo viene sviluppata e allo stesso tempo viene approfondito anche il personaggio in sé che ovviamente non solo come contrapposizione Wayne Batman e quindi come Wayne che indossa la maschera di Batman ma già dall'inizio e a lungo andare sembra più un Batman che usa la maschera di Wayne per vivere di nascosto nel quotidiano e utilizzare gli agganci che la sua posizione nella società gli permettono di avere storia interessantissima ho trovato ovviamente anche nella relazione che sviluppa con il commissario Gordon e ho trovato meravigliosa l'ultima storia che attraverso queste vignette molto particolari questo avvicendarsi di vignette strette e quindi dettagli e campi più grandi ci permettono di entrare all'interno della vicenda di assaporare quello che sta accadendo proprio come se stessimo avanti a un maxischermo spettacolare è la linea che sviluppa delle figure molto dinamiche più a tutto tondo con dei disegni bellissimi con dei contrasti eccezionali soprattutto nelle tavole monocromatiche e ovviamente poi in quelle sul finale dove il rosso sembra farla da padrone abbandonando i temi del seppia e del violaceo arrivando così a questi rossi meravigliosi che fanno un po' da tratto di union in tutte le tavole in tutte le vignette fino all'incontro con questo nemico di turno che ho trovato eccezionale veramente una bellissima trovata spettacolare magari questa è una di quelle storie che mi piacerebbe recuperare per cui ho preso anche il numero uno in realtà era in bundle il numero uno di batman e di superman anche in questo caso costa di meno rispetto all'alfa anche per la qualità della carta della copertina e di quello che è stato stampato e abbiamo anche in questo caso due storie all'interno di un unico spillato anche questo sarà quindicinale e come mi sembra di aver capito con superman anche in batman forse o solo forse batman non ricordo avremo un succedersi di una storia e ogni due settimane se ne continua una quindi è un ritmo che già abbiamo visto ad esempio in star wars e di sicuro in altri periodici americani il titolo è chiaro è semplicissimo un po' meno forse la storia perché ben condita di mistero un mistero che si apre già dall'inizio con una confusione che viene creata all'interno del lettore o almeno di me perché al posto dei poliziotti troviamo a compiere delle indagini enigmista e joker a man mano che si va avanti nella storia si capisce quindi che gotham city non è più quella che conosciamo ma anzi è caduta sotto il gioco del cattivo sotto il gioco del male e persino batman sembra essere passato ad altri padroni che non siano quindi la giustizia e la democrazia ed è così quindi che scopriamo che in realtà quel batman non è quello vero non è quello originario ma che la città è governata da tutti quei cattivi che sono stati imprigionati in realtà da batman stesso e che sono fuggiti da arkham allo stesso tempo si alterna una vicenda nella quale troviamo wayne privo di sensi con l'unico aiuto di catwoman pronta quindi a prendersi cura di lui anche in questo caso come nel caso di superman nel numero 1 abbiamo un avvicendarsi di eventi che fanno un po' da flashback da flash forward che ci danno una mano saltando anche da un personaggio all'altro e quindi da una linea all'altra del confine tra gotham e furi gotham che ci permettono non solo di non fossilizzarci su alcuni e soli personaggi ma anzi di andare ad assaporare un po' in giro e lo trovo una cosa molto dinamica molto frizzante e funzionante infatti anche se inizialmente c'è questa difficoltà a capire cosa sta succedendo poi man mano che si legge si entra nel meccanismo e diventa molto coinvolgente come ovviamente e qui anche meglio di superman è coinvolgente il disegno un disegno veramente spettacolare molto moderno nelle tecniche e soprattutto interessantissimo per questa scansione delle vignette che sono quasi tutte orizzontali quindi strette e lunghe quindi molto cinematografiche e l'alternanza invece a vignette che scompaiono diventano delle splash page quindi completamente a piena pagina nella quale quindi e con la quale si vuole che il lettore entri all'interno della vicenda e venga coinvolto possiamo dire con tutti i sensi linee interessantissime figure belle sode dinamiche ben piantate con delle linee muscolari molto meno rigide molto meno spigolose delle storie passate condite ovviamente con dei colori spettacolari io li apprezzo veramente tanto e a differenza del numero uno di superman apprezzo il fatto che le vignette non siano contornate da alcun fronzolo o alcuna lattuga ma anzi se ci sono i contorni bene se non ci sono si sovrappongono oppure scompaiono lasciando semplicemente o il bianco o il nero di sfondo nel layout della tavola come ho detto questi sono i quattro volumi i quattro spillati della DC che ho voluto recuperare che ho potuto recuperare avevo visto anche la versione da collezione dei numeri alfa solo che quando ho visto il prezzo non so se ho urlato io dentro di me o era il portafoglio in borsa che stava urlando che non voleva essere violentato e quindi ci ho rinunciato poi se magari la Panini è all'ascolto di questo video e abbia voglia di sovvenzionare qualche puntata io potrei anche proseguire ovviamente di certo il fatto che queste storie siano quindicinali e non mensili diventa anche più oneroso proprio sul lato delle spese perché ogni volume sono quasi 45 pagine su per giù per di più a 5 euro e quindi sarebbe se si volesse continuare la lettura 10 euro ogni due settimane solo per questi due personaggi quindi ognuno si misura la palla e decide se entra in campo o meno per il momento queste sono le mie parole i miei pensieri riguardo l'ingresso della DC nella Panini e il suo ritorno quindi in Italia chissà io però ho parlato troppo ditemi voi nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questa strategia e soprattutto cosa ne pensate delle storie magari le strategie lasciamole agli editori noi siamo lettori però se anche voleste parlare di strategie editoriali io sono interessato anche a questo vi aspetto nei commenti qui sotto ditemi la vostra ovviamente usate toni garbati non c'è bisogno di fare gli spocchiosi perché immagino che in ogni fandom ce ne siano i video precedenti ne sono un po' la dimostrazione nel passato della mia vita qui su youtube basta parlare se questa puntata vi è piaciuta fatemelo sapere con un bel mi piace condividendola con i vostri amici e iscrivendovi soprattutto al canale attivando anche la campanella a lato mi trovate in tutti i social network che vi lascio qui sotto nell'info box ma fate visita soprattutto a www.retrattinoacenso.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziani io sono Dario questa è Recenso e noi ci vediamo venerdì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su Recenso pronti a sfogliare nuove storie e volare insieme nel mondo della fantasia a